Ciao a tutti, oggi volevo preparare insieme a voi degli straccetti di pollo con miele e arancia. Ho già messo a marinare un'oretta fa i miei straccetti di pollo insieme a dell'arancia. Ho tagliato un'arancia a metà e lo tagliate pezzettini e glielo ho messo assieme, mischiato bene e lasciato coperto in frigo per rimorre. Adesso cosa facciamo? Prendiamo il sale, va a metterci un pochettino di sale nei nostri straccetti e prendiamo un po' di paprika, ma poca, poca a poca così e andiamo a mischiare bene. Dopodiché prendiamo i nostri straccetti della farina, oppa ho fatto già un bel pasticcio, della farina, così, i nostri straccetti. E insieme anche i pezzetti di arancia, non li togliamo, li lasciamo assieme perché andremo poi a cuocere insieme al nostro pollo. Ok, aggiungiamo ancora un pochettino di farina. Io ho già messo a scaldare un filino d'olio e adesso andiamo a soffriggere. Il nostro olio è caldo, adesso andiamo a mettere i nostri straccetti di pollo all'interno. Ha una cottura molto veloce, quindi non c'è bisogno di chissà che tempo. Andiamo a mischiare bene. E li lasciamo rotolare bene per 3-4 minuti. A questo punto andiamo ad aggiungere il succo di metà arancia. Continuiamo a mescolare. E infine andiamo ad aggiungere il nostro miele. Adesso aspettiamo solo ancora 2 secondi che rosola bene bene. Ecco qua, aggiungiamo un bel cucchiaio di miele. Ok. E facciamo ancora cuocere gli ultimi 5 minuti. Ecco qua i nostri straccetti di pollo all'arancio e al miele.